La Turris coglie un importante pareggio interno contro il Catanzaro, una delle compagini più attrezzate del girone meridionale di Serie C e tiene a distanza le dirette inseguitrici nella corsa salvezza. I Corallini partono bene con un gran tiro di Giannone controllato dal portiere ospite, ma sono i calabresi a rendersi pericolosi con un colpo di testa di Martinelli che coglie la traversa. Alla mezz'ora prima svolta del match, altra conclusione da lontano di Giannone, che Fazio intercetta in aria con un braccio, giallo per il difensore e il rigore per la Turris che lo stesso Giannone però calcia sul palo gettando la grande occasione per il vantaggio. Pochi minuti dopo ancora Fazio commette un ingenuo fallo al centrocampo sul Longo che gli costa il secondo giallo lasciando la sua squadra in dieci. La Turris ne approfitta subito, l'imprendibile Giannone trova in piena area la corrente romano che a tu per tu con Di Gennaro non sbaglia portando i suoi sull'1-0. Ma i giallorossi reagiscono subito con Di Massimo che calcia al volo sul cross di Contessa e beffa a bagnare sul suo palo. All'intervallo è 1-1. Nella ripresa la Turris ci prova ancora con Bojciuk da centro area ma il Moldavo spara alto. Poi è da Dalte che prova il cross ma nessuno dei compagni si fa trovare pronto per la deviazione. I giallorossi, data l'inferiorità numerica, chiudono ogni spazio e controllano le iniziative coralline senza grossi affanni. Al triplice fischio è un pareggio che permette alla Turris di restare a più 4 sulla zona play-out quando mancano 5 partiti al termine della stagione regolare. La squadra di Mister Caneo è attesa ora dall'incontro di sabato prossimo contro il Teramo.